Ciao, ciao da Mio Pilates, ci alleniamo con la palla. Alleneremo la parte interna delle cosce. Nell'ultimo video abbiamo lavorato la parte esterna, quindi adesso compensiamo anche con la parte interna. Unite pure questi due ultimi video alla precedente playlist, anzi lo farò io nel momento in cui li pubblico, magari li inserisco, così avete già un allenamento più completo in modo da allenarsi con tutto il corpo. Bene, intanto come state, scrivetemi pure, ditemi pure come state, cosa volete ricevere, io sono ancora un po' in alto mare con i tempi, con l'organizzazione, ma sto studiando delle BDI per i prossimi video. Continuiamo con degli esercizi abbastanza classici. Allora, prima di andare proprio interamente sull'argomento interno coscia, facciamoci un bel footwork che assolutamente bene ci fa. Allora, posizioniamoci tra gli arti supini, aspetta che vado fuori video, scommetto, ok? Supini, vi ricordate la posizione neutra del corpo, assolutamente fondamentale affinché poi il lavoro per gli arti inferiori sia al top, ok? Quindi, se non avete la minima idea, andate a rivedere il video proprio sulla posizione neutra, anche solo il primo video dell'ultima playlist pubblicata. Posizionate la palla davanti a voi, a una ventina di centimetri, a volte mi rendo conto che è difficile posizionare la palla, è molto importante definire la posizione per rendere al meglio poi l'esercizio. Quindi, una ventina di centimetri, la posizione corretta è quella che vi fa partire, diciamo, con le ginocchia sopra all'area dell'anca. Quindi, al di là che abbiate o meno uno specchio, sicuramente lo percepite attraverso la sensazione che vi danno le vostre gambe e le vostre ginocchia. Le gambe sono leggermente separate e appoggiate i piedi non esattamente sulla sommità, ma nella parte che è un filino discendente della palla. A questo punto sistemiamo anche le braccia, le scapole sono incastrate nella schiena, La powerhouse è sempre attiva, percepisco un filino d'aria sotto l'area lombare, inspirando, allungate in avanti le gambe, e ispirando, ritornate nella posizione di inizio. Inspirando, allungo, considerate che quando avete la palla, la palla cosa fa? Tende a essere, perché funziona, perché vi destabilizza. Il vostro compito, quindi, sarà quella di stabilizzare la palla sul terreno, di non farvi guidare in giro da lei a destra e a sinistra. Per fare questo dovete pensare sempre di volerla stabilizzare e al tempo stesso muovere. Quindi, mentre faccio rotolare avanti la palla, al tempo stesso la premo contro il pavimento. E questo premere costantemente vi fa attivare parte della muscolatura posteriore delle cosce e, infatti, l'indomani lo sentirete anche nei glutei, ok? Quindi, allungo in avanti, ispirando, fuori l'aria recupero e sento bene la piega del pantalone. Allungo in avanti, ispiro e fuori l'aria ritorno. Allungo in avanti, ispiro e fuori l'aria ritorno. Allungo in avanti, ispiro e fuori l'aria ritorno. Per dare un po' più di enfasi ai glutei, posizioniamo il bacino nelle prossime dieci ripetizioni in una posizione di inizio di retroversione. Qui, a questo punto, sentite l'area lombare che si appiccica proprio al terreno, il codino e una parte del coccige che costantemente restano sollevati da terra. In ispiro, in questa fase ovviamente tende a scendere il bacino, l'esercizio sta proprio nel mantenimento della posizione del bacino e ritorno. Inspiro, allungo due e fuori l'aria ritorno. Costantemente vado a lavorare le braccia, la posizione del tronco, la posizione in questo caso non neutra ma di retroversione. Se accusate fastidio alla schiena, ovviamente sospendete. Ogni tanto la palla, come avete visto anche nel video, va un po' riposizionata e vi ripeto, come nell'esercizio precedente, non solo dovete pensare alla palla a rotolarla avanti e indietro ma a premerla costantemente contro il pavimento. Allungo in avanti, 5, penso e ritorno. Presto un po' il colpo, allungo in avanti, 6 e ritorno. Allungo in avanti, 7 e ritorno. E cominciate già a pensare, anche se le gambe sono leggermente separate, di volerne avvicinare una all'altra. Cominciamo a riscaldare bene anche l'interno coscia perché con i prossimi esercizi andremo a lavorare un filino di più proprio l'interno delle cosce. 9, facciamo l'ultimo, 10 e ritorno. Bene, a questo punto ci giriamo sul fianco. Lasceremo la nostra pallina, mi sono girata in maniera veramente vergognola, scusatemi, non è da me. Allora, è che sta per piovere, quindi ho un attimo di fretta. Flettiamo la gamba di sotto, diciamo quasi ai 90 gradi, il che significa che il ginocchio deve essere quasi davanti alla sua anica. Come nel video precedente, sistemiamoci nella parte superiore. Dobbiamo avere spalla su spalla, testa che appoggia. Adesso io per comodità tengo la testa su, ma voi lasciate scaricare il peso della testa sul braccio. Se vi dà noia l'appoggia, mettete un piccolo cuscino o una pallina sgonfia. Io resto su perché probabilmente arriva meglio anche l'audio. Dopodiché andiamo, con l'aiuto anche della mano, facciamo scivolare la palla verso l'estremità. Quindi diciamo che siamo nella parte appena sopra l'area del malleolo. Dovete sentire il contatto del vostro corpo con la palla. Ok? A questo punto vado a verificare l'anca su anca. Metto giù la testa anch'io adesso per comodità nell'esercizio. Il ginocchio deve proprio guardare in avanti. tenderà a fare questo. Invece dovete quasi percepire di essere in intra-rotazione. Che cosa faremo? Inspirando, premo bene la gamba sulla palla, espirando piano lascio. Ok? Inspiro, premo, ed espirando piano lascio. Inspiro, premo, premo, fino a che sento proprio lavorare l'interno della coscia e fuori l'aria piano lascio. Inspiro, quattro e fuori l'aria lascio. Inspiro, cinque, forte, 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 forte. È probabile che di ripetizione in ripetizione e dobbiamo spingere sempre di più la gamba contro la palla e quindi contro il pavimento per avere sempre la stessa sensazione. Ancora quattro, forza, inspiro e cercate di distribuire bene l'inspiro. Non fate in apnea e lascio, ma sentitevi respirare. Ancora due. L'ultimo. Ora rimango a una moderata pressione. L'obiettivo del prossimo esercizio sarà mantenere costantemente l'attivazione di questo muscolo e a questo punto spingere talmente verso il basso la gamba contro la palla e contro il pavimento da sollevare leggermente il bacino. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Forza, forza, forza. Sette. Sai che ne manca poco. Otto. Nove. Dieci. Resto su in statica. Conta dieci. Nove. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Uno. E rilasso. Molto bene, ragazzi. sta per piovere. Quindi, vi saluto. Vi invito a riguardare il video. Ripartite dal primo esercizio simmetrico. Siete su pini, lavorate con tutte e due le gambe, così è occasione per fare un'altra volta questa serie. E ripetete ovviamente il lato, dall'altra parte, il lavoro per l'interno coscia. Vi auguro buon allenamento, buona serata, iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti al canale, e assolutamente ci vediamo presto con i prossimi video. Sto studiando dei video un po' particolari per attivare dei muscoli che magari non si sono ancora sentiti con tanta chiarezza. A presto e grazie. Ciao. Scrivetemi pure, scrivete tutto quello che volete. Grazie. Ciao.